Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 183esima puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi come sempre le principali notizie dal mondo del software libero open source della settimana appena trascorsa. Anche questa, come potete vedere se mi seguite già su YouTube, è una puntata video, quindi oltre alla mia assodente voce trovate anche il mio bel faccione messo nel riquadro in basso e una serie di screenshot delle notizie che vado di volta in volta a commentare. Quindi un modo migliore per poter seguire il podcast, un modo anche più fruibile per tutti quelli che si andano soltanto a sentire la voce. Se ancora non l'aveste fatto vi invito inoltre a iscrivervi numerosi al canale YouTube di Marcos Box. Vedo che la maggior parte delle persone che visitano il canale non sono iscritte, quindi iscrivetevi, a voi non vi costa niente, mettete una bella iscrizione, mettete un bel pollice suo per ogni video e diffondete il canale YouTube di Marcos Box, aiutatelo a crescere. Ma apriamo questa puntata con un editoriale realizzato da Luca, Luca lo sapete, scrive da diverso tempo sulle pagine del blog, fa guide e fa anche editoriali che sono anche molto apprezzati da voi lettori. Questo ultimo articolo, questo ultimo editoriale che ha postato sulle pagine del blog riguarda Ubuntu 24.04 LTS, l'ultima versione LTS di Casa Canonica uscita lo scorso mese di aprile. In questo suo editoriale ci va a dare le sue impressioni a caldo di utilizzo su Ubuntu 24.04, andando a evidenziare anche una serie di baghettine e di cosine di bancazze che lui ha trovato e che reputa necessario correggere. Andatevi a leggere l'articolo, io non vi spoilerò niente come al solito perché vi invito a leggere l'articolo e trarne le vostre conclusioni. Vi ricordo inoltre che sul canale YouTube di Marcosbox trovate anche una mia video reaction a caldo su Ubuntu 24.04, postata proprio in concomitanza con il rilascio di Ubuntu. Quindi se ancora non l'avete vista andate a recuperare questo video, magari ve lo lascio in descrizione da qualche parte. E sempre riguardo a video reaction, questa settimana ho postato due video reaction su due distribuzioni, una che mi è piaciuta, l'altra che invece non mi è piaciuta. La prima non recensione, come la chiamo io, riguarda Ultramarine Linux, che è una derivata di Fedora che si prefigge di rendere Fedora più user-friendly. E come fa a rendere Fedora più user-friendly? Beh, va a installare codec che normalmente non sono preattivati, preinstallati su Fedora per motivi di legislazione, perché Fedora è sottostante di legislazione negli Stati Uniti, quindi determinati codec non possono essere preinstallati con la distribuzione, va poi ad aggiungere una serie di repository che vanno a aumentare la possibilità di installazione di pacchetti sulla distro. Non vi spoilerò nulla, anche in questo caso andatevi a vedere il video nel quale vi faccio vedere un po' come funziona questa distribuzione e quali sono le sue caratteristiche e perché per me non merita di essere installata. Sì, lo so, è una cosa bruttissima quella che sto dicendo. Sto andando a criticare un progetto open source e lo sto facendo, sembra anche in maniera cattiva, però effettivamente Ultramarine Linux è una distro che potrebbe essere evitata. Perché può essere evitata? Perché quelle cose in più che offre rispetto a Fedora sono cose che essi possono avere su Fedora con 2-3 click, quindi perché fare una distribuzione soltanto per quello? Boh, non lo so. Fra l'altro poi utilizza anche come desktop environment principale budget desktop, che è un desktop environment che io non amo particolarmente, perché di fatto è un fork di Gnomecon, poi va a pescare applicativi presenti da, che ne so, da Amate e quant'altro, quindi è un po' un mischione di roba e queste cose a me non mi piacciono tanto. Vabbè, comunque andatevi a recuperare il video e lasciate un commento al di sotto del video o dell'articolo pubblicato sulle pagine del blog, visto che anche molti di voi l'hanno provata e non ne sono rimasti tanto entusiasti. L'altra invece non recensione riguarda Rhino Linux, una distribuzione che io consiglio a tutti quanti di provare almeno una volta. Che cos'è Rhino Linux? Rhino Linux è una derivata di Ubuntu, nasce dalle cene di Rolling Rhino Linux, adesso si chiama soltanto Rhino Linux, l'hanno fatto forse per me, hanno tolto delle R, in modo tale che non mi fa fatica pronunciare il nome della distribuzione. Dicevo, è una derivata di Ubuntu che ha diverse particolarità. La prima riguarda il fatto che è una distribuzione di tipo Rolling, quindi che cosa fa? Va a pescare dai repository in sviluppo deval di Ubuntu per avere la base della distribuzione. Va poi a utilizzare una versione customizzata di XFCE, questo ambiente desktop sviluppato dal team di Rhino Linux, si chiama Unicorn Desktop, e va praticamente a rendere XFCE più simile a un desktop moderno come, che ne so, Gnome Shell. Lo va proprio a scimmiottare, diciamocelo, diciamocelo in maniera nuda e cruda. L'altra particolarità di questa distribuzione risiede nel fatto che va ad aggiungere un tool chiamato Rhino PKG, che cos'è? è un Meta Package Manager che combina, che cosa? APT, Pack Install, Flatto Pack e Snap, tutto in un'unica applicazione. La distribuzione praticamente vi consente di installare pacchetti dai repository principali, quindi da APT, vi consente di utilizzare Pack Install, che serve per poter andarci a compilare, scaricare quant'altro pacchetti direttamente alla fonte. Praticamente Pack Install è, diciamo così, la versione AUR per Ubuntu, quindi con tutte le potenzialità, erisiche, offre un sistema del genere per l'installazione. È una cosa molto interessante, che magari approfondirò in qualche video successivo sulle pagine del blog o magari in qualche articolo, perché è possibile installarlo anche su Ubuntu, quindi senza problemi. Ha presente anche pacchetti in formato Flat Pack, quindi da Flat Tab per impostazione semi predefinita, perché come vedremo, come vedrete nel video, non sono preattivate queste cose, ma dobbiamo andare a attivare, e pacchetti da Snap. Grazie a questo tool, RhinoPKG, noi ogni qualvolta andremo a cercare un pacchetto, installare un pacchetto, ci verrà proposta una serie di opzioni, dice l'ho trovato qui, 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 che cosa vuoi installare, e se la vede qui a installare. Anche l'aggiornamento con RhinoPKG va ad aggiornare tutto il sistema, andando poi ad aggiornare le singole cose da dove sono state pregrivate. Ed è una cosa molto interessante, molto carina, che aumenta le possibilità offerte da questa distro. Andatevi a vedere il video e andate a lasciare un commento se magari voi l'avete provato e se avete intenzione di provarlo, perché è interessante questa cosa. Ecco, vedi, questa è una distribuzione che si differenzia rispetto alla distribuzione nella quale deriva, perché offre delle particolarità che sono uniche nel panorama delle derivate di Ubuntu. E cambiamo adesso argomento, passiamo alla parte sicurezza informatica con una notizia che ha fatto anche arrabbiare alcuni di voi. Alcuni hanno detto che è un posto sponsorizzato, altri hanno detto che non mi stavano mai una simile cosa sulla mia macchia. Che cosa è successo? È successo che Kaspersky, il famoso produttore di antivirus, criticato poi successivamente nel corso degli ultimi anni per via delle vicinanze con il governo russo, ha deciso di lanciare anche per Linux un tool che è straconosciuto e strautilizzato tutti quanti quelli che si sono trovati almeno una volta a fare assistenza informatica a parenti, amici, ma anche se la fanno di mestiere. Il tool in questione è il Kaspersky Virus Removal Tool, che è un piccolo tool che è disponibile per Windows, che consente di andare a fare una scansione rapida del sistema, andando a trovare malware, adiware e quant'altro. Quindi per sanificare le vostre installazioni di Windows. Vi ripeto, è una cosa che tutti quanti abbiamo utilizzato almeno una volta in ambiente Windows. Io personalmente l'ho utilizzato diverse volte. Questo tool adesso è disponibile anche per Linux. Sulle pagine di Marcosbox trovate, illustrate come funziona questa applicazione per Linux e trovate anche un link con una serie di distribuzioni che sono state testate, Kaspersky ha testato per far funzionare questa applicazione. Quindi è stata testata su Arma Linux, su CentOS, su Debian, su Linux Mint, su OpenSource, su Oracle Linux, su Red Hat Enterprise Linux, su Rochi Linux addirittura, su Ubuntu ovviamente, ma insomma, trovate tutto l'elenco postato sulle pagine del blog. È un tool, comunque tenete d'occhio perché la sicurezza non è mai abbastanza. Abbiamo visto recentemente che ci sono state falle di sicurezza anche nel mondo Linux. Quindi più aumenta la diffusione più aumentano i malintenzionati. Quindi non fa mai male avere uno strumento che ci può aiutare. Poi magari voi scambiate anche falle con il mondo Windows, anche fare una scansione ogni tanto può servire. E passiamo adesso ad un'altra notizia che sarà sicuramente la notizia della settimana prossima a venire e delle settimane successive. che è una notizia che sta già facendo discutere già fatto discutere nei mesi passati prima che arrivasse prima che si palesasse e che sta facendo discutere in queste ore. Riguarda la notizia il Manifest V3 di Google Chrome. Che cos'è il Manifest V3? È la nuova polisi relativa alle estensioni per i browser basati su Chrome quindi Google Chrome e tutti quelli annessi che Google ha sponsorizzato. la sponsorizzata perché dice che secondo lei questa nuova polisi andrà a migliorare la sicurezza e la privacy degli utenti però di fatto questa nuova polisi per le estensioni va a limitare fortemente le funzionalità delle estensioni e in particolar modo andrà a impattare in maniera notevole per quanto riguarda gli adblocker che sono le estensioni più largamente utilizzate all'interno di tutti i computer nostri noi tutti quanti andiamo a installare un adblocker diciamo cioè soltanto la casalinga di voler magari non si va ad installare l'adblocker perché non sa però se smanettate un po' con un qualsiasi computer di sicuro sarete andati ad installare un adblocker per cercare di limitare le fastidiosissime pubblicità che ormai ci invadono ovunque il piano di attuazione del Manifesto V3 di Google prevede che a partire dal 3 giugno per quanto riguarda i canali beta dev e canary se gli utenti hanno ancora installato estensioni vecchie quelle con Manifesto V2 alcuni inizieranno a vedere dei banner di avviso quando visiteranno la pagina della gestione delle estensioni quindi Chrome Extensions che informa che queste estensioni Manifesto V2 che hanno installato presto non saranno più supportate allo stesso tempo le estensioni con i badge featured che utilizzano ancora Manifesto V2 andranno a perdere il badge nella fase successiva si procederà gradualmente alla disabilitazione di queste estensioni gli utenti poi verranno indirizzati alla Chrome Web Store dove gli verrà consigliato di installare alternative a queste estensioni che sono state disattivate che però supportano il Manifesto V3 quindi ci sarà poi un altro breve periodo di tempo di adattamento e poi alla fine tutto questo finirà all'interno della versione stabile di Google Chrome quindi tutta la transizione dovrebbe avvenire entro l'inizio dell'anno prossimo entro l'inizio del 2025 quali sono le criticità di Manifesto V3 come vi dicevo riguardano riguardano le estensioni che vanno a fare il blocco della pubblicità perché? perché che cosa succede? succede che il Manifesto V3 è andato a introdurre delle limitazioni nelle API che gli adblocker e le estensioni che fanno anche di antitracciamento che questi che dicevo che queste API che vengono utilizzate per combattere le pubblicità pubblicità che sono offerte anche da AdSense con Google una delle limitazioni più importanti riguarda la capacità degli adblocker di effettuare gli aggiornamenti automatici delle liste di bloccaggio che cosa succedeva con le vecchie versioni di queste estensioni con il Manifesto V2 praticamente le estensioni potevano in automatico andare a scaricare le liste di bloccaggio più volte a giorno e quindi consentiva a chi sviluppava queste estensioni di correre ai ripari qualora un partner o anche Google introducesse una modifica che andava a girare le liste di bloccaggio quindi veniva scamata questa questa modifica per per il blocco della pubblicità subito arrivava l'aggiornamento silente sui nostri computer e la pubblicità veniva bloccata in 4 e 4 8 adesso che cosa succede con questa nuova versione con il Manifesto V3 succede che non sarà più possibile fare una cosa del genere oltretutto poi c'è un altro problema c'è il problema che non essendo possibile più l'aggiornamento dei background dovrà il consigliuppatore dell'estensione andare a rilasciare l'estensione aggiornata sul Chrome Web Store l'aggiornamento delle estensioni sul Chrome Web Store non è una cosa immediata quindi passerà del tempo e quindi di fatto chi sviluppa questo tipo di estensioni avrà realità non potrà correre subito ai ripari con tutto disagio che si abbatterà poi su noi utenti che utilizziamo questo tipo di estensioni diciamocelo questa è una guerra che Google sta combattendo da tempo e questa modifica andrà a rafforzare ulteriormente il suo sistema di bloccaggio degli anti-blocker recentemente Google sta anche facendo delle modifiche per quanto riguarda gli anti-blocker per quanto riguarda la piattaforma di YouTube non so se avete sentito è notizia della settimana scorsa sta testando adesso un sistema che qualora su YouTube non ne avreghiamo andiamo su YouTube e viene rilevato che noi abbiamo un blocco della pubblicità che cosa fa che cosa fa YouTube ci fa schippare alla fine del video quindi bloccandoci la funzione del video senza pubblicità allora diciamo è un comportamento dal punto di vista puramente puramente teorico puramente anche diciamo dal punto di vista commerciale non è tanto sbagliata questa cosa qui perché il core business di Google è quello di vendere pubblicità mirate con Dsense anche io utilizzo Dsense sul blog lo utilizzo con le pubblicità e mi rendo conto che delle volte sono pubblicità davvero invasive perché io ho attivi gli esperimenti automatici e ogni tanto mi attivano pubblicità a catena sul sito e poi ogni volta devo andare a correre i pari e disattivare queste pubblicità che spuntano come funghi diciamo quindi dal punto di vista puramente tecnico puramente solidare nei confronti di Google hanno ragione nel propinare degli strumenti per il blocco delle pubblicità perché loro ci guadagnano però qua la situazione sta sfuggendo di mano su YouTube è diventato impossibile vedere un video senza un adblocker ve ne accorgite se non avete YouTube premium sullo smartphone ma ve ne accorgite anche che ne so sulle smart tv sulle fair stick tv dove appunto vi dovete servire mille pubblicità che non sono manco skippabili dopo pochi secondi e quindi state lì delle volte e dice ma no posso vedere un video senza 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 rottura di scato oppure no diciamo che Google dovrebbe cercare di limitare un po' l'impatto di tutte queste pubblicità ci sono poi diciamoci siti web che sono infarciti di pubblicità non solo di AdSense di Google ma anche di altre società che vendono pubblicità e visualizzare certi siti senza un'estensione che va a bloccare le pubblicità alle volte diventa diventa difficoltoso quindi evitare l'utilizzo di determinate estensioni magari possiamo utilizzare anche tipo ci sono anche delle estensioni che cercano di bloccare pubblicità ma non troppo come che ne so di Black Class come anche questo qua quella di Electronic Frontier Traversy Badger quindi ci sono delle vie di mezzo che si potrebbe attuare ci sono degli accordi che potrebbe fare Google invece no Google ha deciso di fare guerra totale tabula rasa e di dare guerra a tutti quanti chi tutti quanti i programmatori che sviluppano questo tipo di estensioni è una cosa brutta che sta facendo e ce le stiamo rimettendo noi utenti vabbè però ci sono ci sono però dei modi che possiamo delle cose che possiamo fare per cercare di salvarci salvarci letteralmente quindi cercare di continuare a utilizzare determinati servizi senza mille mille pubblicità la prima cosa quella più semplice da fare è cambiare browser passare a un browser che non è basato su Chromio come ad esempio Firefox qui trovate anche la maglietta non so se si da quella lì che mi ha mandato tempo fa Firefox per il regalo per aver supportato il progetto con un progetto di Firefox qualche anno fa e Firefox lo sapete bene non è basato sul Chromium e quindi non avrà tutte queste limitazioni del manifesto v3 la speranza per noi sostenitori di Firefox è che questa mossa di Google possa spingere sempre più utenti verso Firefox facendogli riguadagnare delle quote di mercato magari terro d'occhio nelle prossime settimane nell'andamento della diciamo così dell'adozione di Firefox nelle statistiche quelle pubbliche che troviamo su Netstat e quant'altro l'altra soluzione però è una soluzione che possiamo utilizzare se vogliamo continuare a utilizzare browser basati su Chrome Chromium e quant'altro ed è quella di utilizzare NodeVPN perché NodeVPN non so se lo sapete oltre a essere una delle migliori VPN presenti sul mercato offre anche una serie di strumenti aggiuntivi e tra questi strumenti aggiuntivi c'è una funzionalità di Threat Protection che cos'è la funzionalità di Threat Protection è una funzionalità che è insita nell'applicazione sia mobile che applicazione desktop quindi la potete utilizzare sia su smartphone che su computer che va a bloccare i siti pericolosi tracker web e anche a rimuovere gli annunci pubblicitari fastidiosi quindi utilizzando NodeVPN oltre ad essere protetti con la VPN con questa funzionalità di Threat Protection riceverete anche il blocco delle pubblicità ed è una cosa che non può essere bloccata di fatto da Google perché non è una estensione che noi andiamo a mettere ma è insita direttamente all'interno del software di NodeVPN quindi non è bypassabile da Google quindi qualora non l'aveste ancora fatto vi invito a acquistare NodeVPN trovate sulle pagine del blog il mio link di affiliazione attualmente c'è una promozione che vi dà uno sconto sul piano biennale più tre mesi extra quindi fino al 73% di sconto fatela alla VPN perché vi può servire in tantissimi casi non soltanto per quanto riguarda la sicurezza durante la navigazione sui reti non protetti ma come avete visto in questo caso anche per il blocco della pubblicità e malware e quant'altro ci sono tanti altri casi di applicazione quindi link in descrizione a NodeVPN e infine passiamo all'ultima notizia di questa puntata che è un regalo che Revoir ha fatto per i lettori di Marcosbox Revoir è una cooperativa sociale con sede in Roma che va a mettere a dare nuova vita a computer aziendali a computer che derivano anche da direttamente dai magazzini delle varie società che magari non possono essere più commercializzati direttamente per motivi di distribuzione di prodotti aggiornamenti di magazzini e quant'altro va a acquistare questi computer li va a revisionare e va a offrire anche la possibilità a noi utenti di migliorarli quindi aggiungendo RAM aggiungendo spazio sul disco e quant'altro e li ricommercializza dandovi anche una garanzia quindi sono computer poi che sono tutti quanti computer aziendali macchine quindi troviamo ThinkPad troviamo delle aziendali troviamo HP macchine pensate per durare macchine di qualità e in alcuni casi come i ThinkPad macchine completamente supportate da Linux quindi una cosa ottima sotto questo punto di vista fateci un pensierino se volete acquistare un computer ricondizionato da ReWare potete sfruttare uno dei codici sconto messi a disposizione da ReWare gli sconti sono validi fino al 30 giugno 2024 è uno sconto piccolo del 5% però è uno sconto che fa sempre piacere poter avere fra l'altro siccome questi qua quelli di ReWare sono dei dei pinguini come noi di fatto molti vengono dal mondo dei bug hanno anche la possibilità offrono anche la possibilità in fase di acquisto di chiedere l'installazione di una di software libero quindi di una distribuzione Linux è un servizio che viene offerto da loro in maniera totalmente gratuita purtroppo non potete scontarvi il costo della licenza di Windows per motivi commerciali perché loro acquistano già precedentemente le licenze però è un servizio in più che offrono è gratuito e fa piacere che sì ma in realtà cerchino anche di promuovere l'utilizzo di software libero open source vi ripeto andate sulle pagine del blog prendete il codice incollatelo e usufruite dello sconto tra l'altro ci sono anche alcuni membri della community telegram di marcosbox che da quel che ho saputo hanno già usufruito dello sconto quindi fate presto a quelli di revoir perché sono bravi cercano di dare nuova vita a computer quindi fanno bene all'ambiente fanno bene alle tasche nostre e fanno bene a tutta l'economia circolare perché sono una società che sta qui in Italia quindi non andiamo a dare ulteriori soldi a multinazionali ebbene con questa ultima notizia si conclude qui questa puntata del podcast di marcosbox come sempre io vi ricordo che potete seguirmi sulle principali piattaforme di social mi trovate su facebook mi trovate su x mi trovate su youtube mi trovate sulle principali piattaforme di podcasting quindi google anzi no google podcast non lo posso dire più perché google ha ammazzato google podcast maledetta a voi mi trovate su spotify mi trovate su apple podcast mi trovate su castopod che è un progetto collegato a mastodon quindi mi trovate anche su mastodon col mio profilo personale mi trovate su linkedin col mio profilo personale e oltretutto mi trovate soprattutto su telegram perché sono all'attivo tre modi per seguire il blog su telegram abbiamo il canale dedicato alle notizie che potete utilizzare a modo di feed reader la community telegram di marcosbox alla quale vi invito ad iscrivervi numerosi perché si parla non soltanto di links ma di tutto e poi abbiamo un canale dedicato all'offerta telegram di marcosbox sono link affiliazioni amazon che ho trovato all'interno del canale non è un canale spammone quindi non vi preoccupate e acquistando uno dei prodotti dal link affiliazioni potete supportare il blog volendo potete anche supportarlo cliccando direttamente su tux che trovate sulle pagine del blog che vi dirotta direttamente al referral oppure potete metterlo a mano marcosbox 21 infine come vi ho detto prima potete anche supportare il blog abbonandovi o rinnovando la vostra VPN con NordVPN che è sponsor del canale bene con questo mi sembra di aver dotto tutto lunga vita e prosperità a tutti quanti e ci rivediamo anzi ci riascoltiamo ci rivediamo nella prossima puntata del podcast di macosbox la prossima settimana ciao ciao